ciao a tutti oggi ho l'allenamento sulla presa si inizia sempre con un po di riscaldamento un po di stretching sono allenamenti relativamente brevi che come dire con gli impegni qua adesso mi diverto e riesco comunque poi ad avere degli obiettivi da raggiungere quindi partiamo con il riscaldamento delle maniglie più leggere da 150 libri come faccio la manitina man mano progredirò arriverò a farne due con quella da 250 libri e poi proseguirò con una serie sempre con 250 libri diciamo di tenuta la maniglia cercherò di tenerla per almeno 10 secondi in questo caso farò due o tre serie a più non ci sono Grazie. Adesso è una variante molto divertente dove praticamente nello stringere la maniglia in mezzo ci attacchiamo un peso e dovremo fare in modo appunto di non farlo scivolare. Quindi se da una parte è più facile perché le due estremità non dovranno toccarsi dall'altra è più difficile perché dovremo tenere una forza sempre costante e anche molto più forte per evitare che poi il peso cada. Un altro esercizio che mi piace molto è il pinch grip con tre dischi da dieci e dopo un po' come nell'esercizio di prima la difficoltà sta poi nel far scivolare i dischi tra di loro e quindi esercitare una presa piuttosto forte per tirarli su. In questo caso ho lavorato su delle ripetizioni, non ho fatto delle statiche, invece di alternare nel background di tutta la famiglia che mi sostiene sempre durante gli allenamenti. La piccola Ginevra che mi fa da colonna sonora. Kimi. Aggraggbe. G Bloggi. ovviamente idem ho abbassato il carico con solo due dischi da 10 e un po più di ripetizioni dov'inzome giusto fare un po di accumulo aggiuntivo un po di accumulo aggiuntivo ecco questo è un altro esercizio che mi piace parecchio io lo chiamo il passamano in questo caso l'ho fatto con tre dischi da 5 ma ognuno può fare un po come ritiene più opportuno si possono usare più dischi magari con meno peso meno rischi e basta insomma secondo poi del livello che uno ha qui non è tanto poi in realtà il peso diciamo che si solleva ma la difficoltà come negli esercizi di prima sta nel tenere una presa abbastanza forte tra pollice e poi il resto delle dita esercizio preso dal mio passato di braccio di ferro un brist carl con la fat clip anche in questo caso come in un video che vi feci vedere qualche giorno fa non uso l'opposizione del pollice ma vado a lavorare solo sulle quattro vite esercizio interessante anche per migliorare la presa nello strappo e nello slancio completo del giri sport qui l'ultima serie giusto un po di bump con la maniglia epigrip da se non sbaglio 150 liter non avrò fatta una trentina è è è è è è è è allenamento finito grazie a tutti e a presto ciao